E salve a tutti i miei giuberiani e bentornati in questo novissimo video dopo un'eternità siamo su Hunt Showdown Ma prima di iniziare vi ricordo che in descrizione trovate il link per il 5% di sconto su tutti i vostri server Gportal E vi ricordo anche che c'è il link di Twitch che tutti i martedì, giovedì e sabati E sabati e sabato, vabbè, tutti i martedì, giovedì e sabato dalle 16 Sì, dalle 16 alle 19.30 faccio stream Starlink permettendo, perché siamo ancora in fase, insomma, stiamo ancora in fase di test Ci può stare, tipo, sono stato fermo una settimana perché l'upload non andava benissimo E poi comunque uscirà un video ancora tra qualche settimana del mio primo mese con Starlink Così per chi magari è interessato a vedere un po', anzi a sentire un po' che cosa ha da dire uno, un gamer barra content creator Può avere diversi punti di vista Comunque signorini, io niente, vi ringrazio per essere qui, godetevi questo video Come sempre, senza tagli, pulito, pulito, quello che succede, succede Eh, se escono fuori... Vabbè, bestiebie e cose, lo sapete, io le tengo tutte, non taglio mai niente, non taglio nulla Taglio solo la testa a Devil perché mi fa incazzare Ciao Devil Quindi niente signori, guardatevi questo video bellino, bellino, dove facciamo cose belle Qui c'ho un medikit E poi ci sono anche i cani Oh, merda Che cos'è? Oh, c'è il mostro nuovo che non ho mai fatto da questa parte Ok Occhio la trappola Beh, dove siamo noi ci sono due punti, o al porto o al lago Occhio la trappola Eh, non me la indichi, Dio santissimo Pendati No, di là no, ci sono i cani Lei è rimessa? Sì Potremmo ritoglierla e metterla là invece che è da sotto Però, beh, sti cani Non è tanto nessuno che è da sotto Infatti C'è anche un mostrone lì, eh Senza testa Uh, corvi a 300 300 300, sai la direzione? 300 Occhio c'è qualcosa qua dietro Oh, porca merda Sono là? Sì Forse lì che c'è il boss C'erebbe pure senso, no? Occhio ad eventuali cerchinate Perché ci stiamo avvicinando da ora Però non sento più sparare Eh già Questo era non un colpo ma era qualcun altro Che si siano spostati Mi pare strano Ok, se c'è il boss Minchia, buona sapesse Potremmo fare la bastardata Vediamo se ho una bella visuale da qua Un boia Io c'ho un fucile da lungo Che io Ma lo sono Oh, da destra, da destra Sì, ho sentito Da qualcuno là Occhio da dietro Aspetta già No, aspetta un attimo Aspetta, fammi finì Forse c'è qualcuno là Sì Fatto L'hai preso Ce l'ho detto Cazzo che spotter Eccolo lì In mezzo agli alberi davanti a te Hai visto se è andato a destra o a sinistra Perché non lo vedo Verso a sinistra là Però mi sa che ha appena sparato da lì Io non ho visuale, eh Su sto tipo Mi ho sparato ma non credo dove l'ho preso Mi sa che arrivano pure quelli da dietro È probabile Tu non c'hai la kill confermata Giusto in questo gioco No Te ne accorgi Se è da un urlo È difficile sentirlo da là Comunque era lì Popo lì Eh lo so Ma avevo guardato e non lo vedevo Sì Ho ritirato e andato giù a sinistra E fa il giro Potrebbe fare il giro dietro di noi Però C'è pure senso Tanto io tengo d'occhio Anche là La parte in cui c'era Il primo che ho fatto Sono vari animali Ok Sento che spara Non è verso di noi però Sembrava da lì Anche io lo sentivo in là Potrei provare ad approcciare Sulla collina Dietro di noi Aspetta aspetta Secondo me arrivano pure quelli che stavano qua giù a sinistra E infatti si avvicinano Non so se mi sento Sparare da sud ovest Forse O sono la fattoria O stanno facendo il boss Che magari è l'allevamento Taro Quindi l'altro boss Però comunque mi conviene a me spostarmi In questo momento E mettermi là dietro Tipo là in mezza Gli alberi Perché io sono sotto di te Per carità Ottimo angolo Ma è lo stesso Non capisco se siete che cammini Ma io sono qui E continuo a muovermi Siete che fai casino Da abbassato non fai rumore Giusto? Beh Poco Ok sì infatti Sento passi davanti a me Credo da là Non vedo nulla Non vedo nulla Dove sono io Dove sono io Che non è facile Pur al sicuro Ho fatto il giro Eccolo infatti Dietro di me Qua Aspetta vado su Aspetta vado su Torno Adesso No non passo da qua Vedo una sega Difficile pure Per me Non lo vedo Oh oh Dinamite È qua dietro È qua dietro Non mi ha preso Ok provo a buttarmi Di nuovo Dice che è là Sento casino Forse è un mostro È difficile capire dove è questo Però a me l'ha tirata da vicino Secondo me è qua dietro l'angolo Qui c'è un mostro Non ti fa vedere Nonostante ora Sono tornato a su Comunque sì Secondo me Sta tipo qua dietro Da quelle parti Il mostro non lo pusha È difficile andare a suonare su sto gioco Madonna Provo a tirar io una dinamite Sì Lo sento Lo sento Lo sento Lo sento Lo sento pure Sì sì Fatto Forse ce n'è un altro Dove era dall'altra parte? Eh no Stava correndo Perché ha sentito la dinamite E corso verso di me Forse era il compagno Di quello che ho Del primo che ho fatto Dove l'hai ucciso? Qui Dove sono io Dentro l'acqua Ah ok Quindi ha pushato per panico Sì Per andarsene dalla dinamite Che ho tirato a cazzo Mi sa che si è incazzato il mostriciattolo Bella comunque Infatti io sentivo rumore Allora Il nostro boss ancora non è stato fatto Però speriamo Che fosse veramente il compagno Di quello che ho fatto qua Speriamo Bello questo c'è la doppia pistola E lui stava cercando di decidermi Da qua all'assù Con le doppie pistole LOL Ha impanicato Due dinamite E le mosche Io spero che Ah le estrazioni ce l'hanno Ah l'estrazione ce n'è solo una Quindi questi E questi passano per fuori Forza di qua Quelli che hanno la taglia Arrivano da 195 E io se potremmo Potremmo andare a provare A camperare l'estrazione Mmm no Perché tanto Lo vedono Se qualcuno campera E comunque E comunque c'è qualcuno qua dentro Secondo me Questo non era il team Che stava cercando Di fare a noi adesso Magari si Allora perché c'è tutto Qua giù in fondo Qua Si ma non sparavano Eccolo eccolo Ok Due due Uno l'ho colpito E togli la mira Mi curo Colpito un'altra volta Oh merda Oh merda Oh merda 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 Ho fatto uno Ho sentito Ho sentito Che succede da te? Per ora niente Hai ucciso quello che era In campo aperto Sulla sinistra Diciamo Sulla destra Sulla destra Quello che andava in foresta A destra Allora uno era più sulla sinistra Si dovrebbe attraversarlo L'ho ucciso lì Uno è sceso E dovrebbe stare proprio Sulla sinistra Infatti Era sceso in qua Lo vedevo correre uno Lo sta rianimando L'ha rianimato Uno e mezzo La foresta Aia Corpito Cazzo c'è una vecchietta Sulla testa L'ho ricolpito Ma non l'ho ucciso Che botta Porca troia Nonna ti prego Non rompere i coglioni Stava tornando sulla strada Ho visto Ok Uno stava sempre Ok lo vedo Ho fatto uno L'hai fatto Lì Mancato Non vi ho scappiato Colpito Mancato Mi curo Sono da te Porca troia Io ho Le cose della nonna Eh io pure TNT DNT C'è dietro sto muro Cioè dietro sto muro Di alberi Tieni d'occhio Il cadavere Dell'amico suo Ma ho sentito Tanti passi Mi sa che L'ha ritirato su Sì lo No Incredibile Quante volte L'hiamo tirato su Quello Occhio Dove L'hanno visto Altra gente Mi sa 195 In là E infatti sono Se premi là E vedi un tuono Loro sono nel tuono Sono corsi indietro Allora Ok perfetto Io ho finito le cure Che palle Ma madonna Dopo tutti gli atterramenti Che abbiamo fatto Le volte che io ho sparato Stai attento Se hanno visto qualcun altro Significa che sta Eh oh Dove? Aspetta No non è vero Però occhio Lupi davanti a noi Che fanno questi? Fanno il giro esteso? Non potrebbe Eh sì È una sega Quanto corrono Paradossale Con un colpo alla testa Non puoi essere però Ripreso Io avevo fatto un edge Le avevo fatto un edge A quello Oh no Voglio inseguire questi Tanto abbiamo 39 minuti Non si riusciamo a tagliargli La strada Occhio Perché se prima Hanno sparato a qualcun altro E infatti Stiamo ancora sparando È diventata una cosa Super personale Ok Ok I gorbi Di qua C'è l'ho aperto Ok Sì Munizioni Qua ci sono delle cure Ok Stanno a 195 45 Tanto corre a destra Sparano comunque Che cazzo stanno a combattere laggiù in fondo Ma sei sicuro Che c'è solo Una estrazione Eh Se apri la mappa Io ho visto solo quella Sì Ma sì No Ce ne stanno pure Tutti a sinistra Guarda Infatti Stanno andando Ah Avevo la mappa Zoomata Vaffanculo Sono belli che è usciti Questi Eh sì Eh sì Vabbè Allora Andiamo a fare E si va Vaffanculo Con la mappa Zoomata Eh infatti Ero tipo Boh Mi pare strano Che ci sia solo la nostra Forse dalla nostra parte Sì Ma solo da noi Ma Ok Ups Ditto Mo' C'è rimasto un team E noi Eh ma non è che non dicano Vabbè Il traiamo anche noi Perché non c'hanno voglia Di venire qui Qui so Quacci PiSu Eeeh no fanculo che scena patetica allora io questo boss non l'ho mai fatto quindi non so a cosa è vulnerabile sento i vetri forse sono gli zombo di sicuro sarà vulnerabile al fuoco dai ah no il caso non è grosso grosso e Che cazzo è? È la cosa della concertina Che è già morto È già morto Ok Mi ha dato WhisperSmith come perk Ah c'è pure il forcone Dove? Ah l'ha preso tempo Allora Se ci buttiamo da quella finestra Io metto Una Beta di concertina qui E Una Riesce a bloccare le scale? Yes Ce ne sono anche di qua di scale Occhio Secondo me stanno arrivando qua questi Anche se c'è ancora una taglia in realtà che non hanno fatto No no lì è quella Dove c'era il mostro Quell'altro Quindi ci sono altri due mostri? O ce ne erano solo due? Ce ne sono solo due Il primo l'hanno fatto quelli con cui stavamo fightando Grompoi Cioè se ti muori con l'ultimo colpo che è un airshot Devi morire e non ti puoi rialzare così facilmente cazzo Bisognerebbe portare Le Le bombe incendiarie Almeno gli bruci il cadavere E Se quell'altro non riesce a andare Cioè non riesce a rianimarlo Mentre va a fuoco Perché sennò prende anni da fuoco anche lui E quindi se brucia completamente GG easy Perché non lo può più rialzare E ci stanno le lanterne di fuoco Potevamo usarle Che freddo cazzo Ho 17 punti zucca Io pure Sono tanti? Boh Non credo Allora mi sa che sono condivisi i punti Sì sono condivisi Io ho una vita che non gioco di notte Mi capita sempre di giorno Ah per cui sa il sussurratore Eh te l'ho detto C'è un perk lì Ok faccio una giratina Non c'è nessuno La E non la usare La E ai 5 secondi E spot i giocatori vicini Sì Sì me lo ricordo Fino a quanti metri? Non lo so Però finché non vedi arancione È tutto ok Vabbè l'estrazione è qua sotto Usiamolo là Qua sopra dico Mi mancano 2 secondi Non ho visto niente Vicino Upsi Ok se i cavalli non fanno niente Vuol dire non c'è nessuno vicino Non c'è nessuno Non c'è nessuno Non c'è nessuno Stava arrivando un gol E vabbè Vivi per morire un altro giorno E vabbè E vabbè